Che è Franco Califano! Con il Mago Cesare! No! Devo si la battaglia! No! Lascia! Ma che sto ricordo! Buonasera! Maestro! Buonasera! Magari il fumo là dietro! Maestro! Maestro! Maestro mi perdoni un'altra cosa! Ionella! Ionella! Maestro venga qui! L'ultimo amico! Maestro un attimo solo le devo dire una cosa! Prima cosa si calmi l'altro prendo due bombe di ossigeno alla dieta! Maestro mi ascolti! Prima cosa deve dire... Un attimo si feri! Maestro prima cosa benvenuta al tanker ma seconda cosa! Come si è permesso? Deve rispondere assolutamente a questa accusa pesantissima della signora Teresa nei suoi confronti! Adria! Ma che? Oh vuoi provare a Teresa? No! Devo ossigeno a Mazzantelli! Di qua! Di qua! Di qua! Di qua! Di qua! Perché l'hai innescato? Perché? Di qua! Quanti anni c'hai? Io ho 59! Devo ossigeno! Vabbè! Maestro benvenuto al tanker! Come sta? Bene! Sapevo che è arrivato in mattinata! È arrivato in mattinata! È arrivato in mattinata! Sì! Mi dovete tenere? Ma che mette nella mano? Maestro! Sono arrivato ieri! Sì è arrivato ieri! Sì! A un certo punto sono andato in camera! C'è una cittadina! Sì! Ho aperto il frigo! Sì! Non trovo nulla! Sì! Soltanto a un certo punto da questo frigo ti trovo soltanto nuovo! Novo! Eh! Novo! Nuovo! A gallina! Novo! Ah! Novo! Devo ossigeno! Nuovo! Sì! Novo! Prende in mano questo ovo! Eh! E inizia a sbattere, sbattere questo ovo! Eh! Ho detto dove da questo ovo mi dice un puccino! Ui! Ho guardo! Eh! E guardo! Eh! E mi fa! Eh! Tio! 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 Io guardo e gli dico! Abio te che? Abio te la mignotare! Ma non se lo può prendere il puccino all'ovo! Devo ossigeno! Maestro! Sta morendo sul pauta! Maestro! Sono venuto comunque per cantare! Eh! Meno male! Va! Cosa ci vuole cantare maestro? Volevo dire soltanto una cosa prima di cantare! So di una polemica! So di una polemica! Di una polemica su! Io rispondo questa frase! Sì! Sappiate che quando moremo! Sì! L'uomo per sua natura! Sì! È fatto da porvere! Sì! Più c'è porvere! Più è fatto! Ma no! Ecco qua! Ritorniamo al discorso di prima! Maestro! Cosa ci vuole cantare per chiudere scultura moderna? Ok! Madonna mia! Peggiorato del tutto! Penso che lo canterò con loro due! Sì! Ida Nella! Ida Nella! Di qua! Ai portacci! Ida Nella! Dal titolo tutto il resto! È noia! Franco Califano! Grazie! Ma di qua! Io in mezzo! Di qua! Ah! Ma io ancora! Ida! Ida Nella! Dai! 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 Sì! Dai! I! Sì! Devo dire cotto! Un'emozione che ti scoppia ancora! Un'emozione che ti scoppia dentro! La macchina a lavare! Ed è ora! La macchina a lavare! Ed è ora! Ed è ora! La macchina a lavare! No! No! Non ho tempo gioia! Ma noia, 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 noia Ai portacci tutti! Signori Franco Califano